Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Sarascino da Benessere Ipnosi Soluzioni, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi parleremo di lasciare andare, lasciare andare, avere il controllo dei propri nervi, non reagire male a chi ci offende, a chi ci dice stupidaggini, a chi ci provoca, a chi ci prova ad umiliarci. Come si fa a non reagire di scatto, a lasciare andare, ad avere sempre il controllo dei nervi senza far ardere il fuoco dentro di noi come un vulcano che magari fuori è spento e dentro arde il fuoco. Come si può fare? Con l'ipnosi di CS vera e professionale, anche con un solo audio MP3 di CS che può fare per te come molto controllo dei nervi, no stress, oppure ego entusiasmo o altri che possono fare al caso tuo. Che tu puoi trovare liberamente sul sito della mia associazione Ipnologi Associati Los Angeles Baby Hills per te e anche per il tuo caro che magari non vuole il tuo aiuto o non può essere aiutato da te perché il metodo di CS, l'ipnosi di CS vera e professionale funziona anche per chi non vuole o chi non può ricevere il tuo aiuto nell'aiuto online, offline di nessun professionista dell'ipnosi vera e professionale. Ora che cosa succede? Che noi reagiamo di scatto come un orologio a molla ogni volta che qualcuno ci provoca perché da piccolini, ritorniamo sempre al passato negativo, qualcuno ci ha ipnotizzati tra virgolette negativamente a reagire così. Un po' era mio padre il quale aveva trasmesso a me questo stress, questo scattare come una molla, questo arrabbiarmi per nulla, questo non lasciare andare. E sono i genitori purtroppo vittime di altre vittime che ci portano a reagire in questo barbaro modo, mettendo a rischio anche il nostro corpo perché dallo stress ragazzi sfociano anche le malattie che chi ne dica qualche guru che ci vede come una macchina. Quindi lo stress in senso lato ci porta ad ammalarci se ci rifletti perché io non conosco nessuno ammalato e neanche io quando mi ammalavo con mal di testa cronici, con male al petto e compagnia bella, se scavavo dentro di me, dentro il mio subcosciente notavo che qualcosa non andava dal punto di vista emotivo, cioè mi stressavo, mi stressavano, mi arrabbiavo per nulla. Anche nelle mie attività quando nel 97 ho aperto da imprenditore, ho creato tante attività, per un non nulla io saltavo tre metri dalla sedia, fumavo tre pacchetti di sigarette. Oggi grazie a Dio, grazie all'ipnosi vera e professionale di Los Angeles Beverly Hills e anche e soprattutto con un audio MP3 DCS, non stress, molto controllo dei nervi, sono la persona più energica, più positiva, lascio andare le sciocchezze, non mi interessano più, non mi fanno nessun effetto e anche con l'altro audio DCS, ego entusiasmo, non passato negativo, praticamente la mia vita è cambiata, da così dal negativo al positivo. Ti ripeto ancora una volta, non credere a nessuna parola del sottoscritto, devi soltanto pensare che tu hai il potere, il potere della tua mente per cambiare il tuo destino, la tua sorte. E convincere il tuo pilota automatico, il tuo subcosciente a lasciare andare, ad avere il controllo di tutti i tuoi nervi centrali e periferici. Si può fare? Sì, 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 io sono una testimonianza, ma come me, centinaia e centinaia di persone nel mondo hanno ottenuto gli stessi risultati e molti anche superiori. Significa che sei più lucido, hai una mente lucida, controlli più la tua vita, le tue reazioni, non è automatico come quando scatta una molla in automatico, ok? Per cui puoi veramente civilizzare, convincere il tuo subcosciente che il passato negativo, quell'immagine che ti causava quello stress, quel reagire in maniera animalesca, a caldo, non esiste più. E lì cambia la tua vita. Poi se non vuoi scaricarti gli audio mp3 dcs che possono fare al caso tuo come non stress, molto controllo dei nervi oppure non passato negativo, li puoi anche mettere insieme, farli ruotare insieme seguendo la lettera e l'istruzione molto facile, la prova di un nonno, la prova di un pigro, la prova di un idiota. Puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, da non confondere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi conformista e commerciale per certi versi e iniziare. Logico che anche nel mondo dell'ipnosi vera e professionale devi chiedere sempre se la persona, il professionista ha già affrontato casi come il tuo, chi domanda comanda perché non ti manca nulla, chiedi, 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 perché il sottoscritto al momento ha sospeso le sessioni di ipnosi dcs vera e professionale in tutto il mondo, per problemi di tempo e di impegni. Fammi tutte le domande del caso, meravigliati del potere della tua mente aiutata anche da un solo audio mp3 dcs, lascia andare, ce la puoi fare, il tuo subconscio comanda sulla tua coscienza, sulla tua vita visibile e visibile, sul tuo corpo e sulla tua mente e su ogni cosa che ti riguarda, compreso i comportamenti, che tu ci credo o no. E lo dice il sottoscritto che si auto-ipnotizza da più di 12 anni con l'ipnosi dcs vera e professionale, anche in questo momento sono ipnotizzato, non sembra, tu adesso mi dirai, sei folle, che dici, ma è la verità, che tu ci credo o no. Fammi tutte le domande del caso, visita il sito della mia associazione Ipnologi Associati, www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di cese del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me. Se vuoi una mente veramente più lucida, più rilassata, più forte, più energica, rispetto a quando uno è stressato, non lascia mai la presa, non lascia mai andare nulla, sta sempre vigile a controllare come ero io, se rifletto tanti e tanti anni fa, anche da studente e lavoratore senza una rile in tasca, perché? Perché avevo preso da mio padre, la persona più burbara, più stressata di questa terra. Bravo papà a tutto, però mi aveva incollato come un francobollo il suo stress, la sua rabbia, la sua frustrazione. Vittima di altre vittime, aggiungo, per cui... E poi seguimi anche su Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzioni di cese del dottor Claudio Saracino, un bacio, un abbraccio e alla prossima, ciao!